Salve a tutti ragazzi sono Felix96 e sono anche Carluto in terra Ora come potete vedere, guardate che punteggi assurdi in assalto dei non morti Guardate, vedete, i zombie Eeeh, ora faccio qualche kill Mi sta facendo ridere Tommy, guardate i punteggi Cleopatra, guardate, 1286 kill, io 953 Cuba 99, 783 e Meo 98 che è arrivato da poco, 377 E guardate a che ondata siamo arrivati Uccidiamo l'ultimo poveraccio rimasto Fine ondata 46, inizio ondata 47 Comunque anche per questo video è tutto Da NML, FedEx96, Meo 98, Ita Cleopatra e Cuba 99 è tutto Iscrivetevi, mettete mi piace e commentate Alla prossima